Nonostante nell'ultime ore sia arrivato un rallentamento della trattativa perché il giocatore a quanto pare vorrebbe prendere più soldi per accettare una squadra del genere, sembra che comunque l'affare a tutti gli effetti si farà e Gerson, il fantomatico fenomeno, arrivato a Roma con una clausola che prevede l'accessione al Barcellona con il conseguimento del pallone d'oro, avete capito bene, se non avete capito riascoltate il mio messaggio anche se è assurdo, Gerson alla fine diventerà, speriamo, un nuovo giocatore della Dinamo Mosca. Dopo infatti il rifiuto al Genua che ha costretto la Roma a virare subito sulla cessione di Luca Pellegrini, Gerson sembra a tutti gli effetti che diventerà un giocatore della Dinamo Mosca, squadra che ha offerto all'incirca sui 10-12 milioni per il suo cartellino e il giocatore che quindi sta lavorando per cercare di ottenere quanti più milioni possibili di stipendio per andare in una squadra che fondamentalmente rispetto a quelle del campionato italiano non è certo, è cezza, certo comunque nel suo campionato non è male, però se facciamo un po' il paragone è come se andassi in un Frosinone, in un Bologna più o meno del nostro campionato. Allora io voglio dirvi prima di tutto la mia opinione su Gerson, per me Gerson è sempre stato un giocatore sopravvalutato, nel senso un giocatore che abbiamo pagato comunque tanto all'incirca sui 17-18 milioni, che però non è mai riuscito ad esprimere il suo reale potenziale, soprattutto nelle prime prestazioni stagionali, è sempre sembrato troppo lento e macchinoso per dare una mano alla causa giallorossa e alla manovra di gioco giallorossa. Mi è sembrato il classico giocatore che in patria fa sicuramente bene, perché il livello calcistico è quello che è, però in un campionato importante come quell'italiano fatica ad esprimersi. E un pochino mi aveva illuso nella prima parte della stagione con Di Francesco, perché rispetto a Spalletti aveva trovato molto più spazio ed era riuscito anche a fare buonissime prestazioni come esterno, in partite non facili come con la Fiorentina, in cui fece una doppietta, e anche con il Chelsea, mi pare, non mi vorrei sbagliare. Fatto sta comunque che Gerson è riuscito a riscattarsi parzialmente della sua prima stagione anonima e infatti nella stagione di Di Francesco fece abbastanza bene nella prima parte, poi nella seconda parte calò drasticamente, è stato ceduto in prestito alla Fiorentina per vedere un po' il suo reale potenziale, ma complice anche la stagione merdosa, scusate il termine, della stessa squadra viola, lo stesso Gerson non è riuscito a farsi valere, anzi, dalle testimonianze dei vari tiposi della Fiorentina è stato uno dei giocatori più odiati, cioè quei giocatori che tu dici che ti aspetti sempre quella giocata in più, quel qualcosa che può cambiare la partita, e invece si perdono in un bicchiere d'acqua, iniziano a giocare male, iniziano a non fare nulla di buono, e iniziano a risultare irritanti, quei giocatori che appunto tu dici, ma di nome sembrano forti, tipo Muriel, capito? Cioè Muriel è un nome che tu dici, ma se è in forma è devastante, ma quando non è in forma gli tireresti i cazzotti in testa, capito il senso del discorso? E quindi Gerson è subito ritornato alla base, certamente non potevamo aspettarci un'offerta migliore da parte di qualsiasi altra squadra, perché il giocatore rispetto a due anni fa si è svalutato, perché nelle stagioni italiane è dimostrato di non essere per il momento adatto a certi livelli, e secondo me la Roma fa bene ad andarlo via, perché se è vero che è ancora giovane, perché ha 22 anni, quindi non è certo un vecchio sul quale che tu devi sbolognare più presto, fatto sta però che qualche scelta bisogna farla, non possiamo pensare di tenere tutti i giovani perché possono esplodere, ci sono anche quei giovani che non esploderanno mai, quindi secondo me bisogna fare una cernita, diciamo, di quei giovani che secondo noi possono effettivamente essere importanti per noi, e quelli che invece conviene cedere anche con il rischio che magari facciano bene dal momento della cessione in poi. Gerson ha avuto la sua occasione con la Fiorentina stessa di potersi far valere, e invece credo che abbia fatto peggio addirittura della sua stagione, appunto, delle sue due stagioni, con la maia giallorossa, quindi non è certo un affare che rimpiango, molti lo criticano dal punto di vista professionistico, ma io penso che ci sia veramente poco da dire, cioè il giocatore sicuramente l'impegno ce l'ha messo, però se le qualità uno non ce le ha, non ce le ha, ecco, è questo il senso del discorso, quindi ovviamente gli auguro tutti l'imboccalupo del mondo per la sua nuova esperienza, a differenza di quelli che già augurano a Luca Pellegrini di rompersi il corsiato solamente perché è stato inserito in una trattativa e andrà alla Juve, cioè pensate che amore per i giocatori che quando sono qua vengono rimpianti, quando sono qua vengono insultati, quando vengono ceduti vengono rimpianti, quando vengono ufficializzati dall'altra squadra devono rompersi le gambe, capito? Vabbè, lasciamo perdere, e quindi niente, adesso vedremo un po' alla Roma cosa farà con questi milioni, credo che sicuramente serviranno per fare qualche investimento, sempre su quel reparto, sperando ovviamente che arrivino anche le varie cessioni di Bruno Perez, Gonalon, eccetera, eccetera, che riescano a fare magari un piccolo budget di milioni che potrebbe essere utile appunto per prendere giocatori adatti, e lo ripeto adatti, al gioco di Mr. Fonseca. Detto questo ragazzi allora, fatemi sapere qua sotto nei commenti, voi invece cosa ne pensate della cessione di Gerson alla Dynamo Mosca sperando che diventi ufficiale e che non rompi il cazzo, scusate il termine, Un saluto e ci vediamo presto per un terzo video, sempre di giornata, sempre legato al calciomercato, sempre dal vostro. Gledettore giallorosso, un saluto e sempre comunque, forza a Roma! Ciao ragazzi!